Direttore, una bellissima emozione. Beh, emozione incredibile, come quelle più belle, come quelle vissute anche da calciatore. Poi dall'altra parte si soffre molto di più, quindi è veramente indescrivibile la mia gioia oggi. Ecco, sei quasi senza voce, segnale che si soffre veramente tanto in tribuna. C'è un segreto, qual è stato il segreto di questa stagione? Il segreto è stato il costruire un grande gruppo, il mister è stato bravissimo, lo staff, i ragazzi, ci abbiamo creduto passo dopo passo dall'inizio e quindi siamo felicissimi. Ragazzi che valgono tanto anche in chiave futura, direttore. Ragazzi che valgono tanto anche da un punto di vista morale, quindi sono molto contento per loro. Grazie direttore, grazie ad Alessandro Frara.